È un progetto nato proprio in casa, su vostra iniziativa coinvolgendo poi successivamente tutti i musicisti che attualmente fanno parte un po' della formazione. Ecco, raccontateci un po' come è stata la genesi dei Ghost. Beh sì, nasce in casa, tra l'altro il nostro papà era batterista e si è sempre respirata musica in casa. Chiaramente abbiamo iniziato per gioco, abbiamo iniziato poi a coinvolgere altri amici che suonavano e partendo da piccoli locali ci siamo espansi. Insomma, nel tempo abbiamo creato una base di fan suonando molto e abbiamo fatto molto una vita da cantanti di strada, diciamo, col porta a porta. Col tempo abbiamo anche potuto creare un camion palco con cui abbiamo girato l'Italia con circa mille concerti live e questo è stato un po' diciamo il nostro marchio di fabbrica. Da lì poi da qualche anno è nata l'idea di fare un disco, più che altro abbiamo trovato una produzione che credeva in noi cinque anni fa e poi dopo il primo c'è stato il secondo album e fra poco si spera di realizzare il terzo. Avete detto padre batterista, quali altre influenze musicali, nel senso oltre ad averle in casa, oltre ad avere il papà con i dischi immaginiamo, quali sono stati gli ascolti che vi hanno fatto crescere? Guarda, veramente a 360 gradi abbiamo ascoltato tutto dal rock alla musica cantautoriale, dal jazz, abbiamo studiato entrambi improvvisazione jazz, nel mio caso appunto voce e sax, lui ovviamente il piano. Però il nostro comunque mondo è molto contaminato, quindi si respirano comunque queste diverse influenze, quindi diventa molto un crossover alla fine, dove comunque si toccano nel giusto momento, insomma cercando di bilanciare gli ingredienti in modo più possibile positivo e personale, comunque i vari generi con lo stesso stile, lo stile Ghost. Il disco, questo album appunto La vita uno specchio è un disco uscito circa un anno fa, sarete in concerto sabato ma ci dicevate prima di iniziare questa intervista che inizierete poi dopo l'estate con calma a lavorare su un album nuovo, però immaginiamo che spesso i concerti diventano occasione per presentare un po' le canzoni nuove, magari testarle sul pubblico e capire anche se funziona. Assolutamente sì, quello è un ottimo test sempre, vedere proprio il pubblico, poi noi in generale cerchiamo di proporre la nostra musica comunque a persone vere, a persone pure, semplici che ti danno subito un feedback spontaneo, quindi per noi il live è fondamentale anche per presentare i brani, anche per vendere dischi a volte, perché comunque l'album ha venduto molto nei negozi, ma comunque anche molto ai concerti. Soprattutto ai concerti diventa un momento, come un po' le band che vengono da Etichette Indipendenti magari hanno più sviluppato questo modo anche di lavorare, anche se comunque quest'ultimo album è stato distribuito dalla Warner poi, però comunque a noi rimane questa parte molto live, tipica di chi viene da Etichette Indipendenti.